Per i primi chiamati provano queste prime. Per Rone, Macicadupo, miliardo 2. Valdone, Palerma, miliardo 5. I primi chiamati provano. Dani, prova te, fammi la cortesia. I primi chiamati, miliardo 7. I primi chiamati provano. 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 Grazie. 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 signori possiamo cominciare magari veniti giocate a punto andate ai 40 ora ci spostiamo a vedere Riccardo Torrini ancora uno Pierino ancora meno 4 manca sul 4 meno 4 0 è la parte da meno 8 dall'altra parte devi mancare 4 guarda bravo 4 che vai a 0 no ma non guardavo il punteggio guardavo il punto aveva sbagliato a marcare ma sono per esempio non conosco in giornalia non è un problema non è un problema non sapevo più non è un problema non è un problema se ne fa meglio non sa scusa ma devo dire 12 12 è 8 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 16 16 16 17 18 17 18 18 19 18 19 19 19 19 19 19 20 20 22 23 23 24 23 24 24 25 25 25 25 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. . a tutti. . a tutti. 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 a tutti.